Correva l'anno 1981. 750 milioni di persone in varie parti del mondo seguono la diretta televisiva del matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana. In Italia il governo Forlani cade in seguito allo scandalo relativo alla scoperta della loggia P2. In Giappone viene rilasciato per la prima volta Donkey Kong con grande successo di critica e pubblico e la prima apparizione per il titolare Gorilla e per il suo avversario l'idraulico Mario. Video Killed Radio Stars dei Debuggles è il primo video trasmesso per inaugurare le frequenze della nuova emittente televisiva dedicata esclusivamente alla musica MTV e la Causium stava inconsapevolmente per ridefinire per sempre il mondo del gioco di ruolo. Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospio su questo canale e anche per quest'anno siamo arrivati alla fine della stagione e questo vuol dire che come sempre dedicheremo l'ultimo video a una lezione di storia. Dato che abbiamo dedicato questa stagione in parte a parlare dei personaggi non giocanti, delle loro organizzazioni e di quante queste siano importanti all'interno della costruzione di una campagna e per l'altra metà ad andare a spiegare, definire e commentare tutte le varie culture e correnti di pensiero all'interno del mondo del gioco di ruolo, probabilmente non esiste gioco più adatto a occupare la lezione di storia che il richiamo di Cthulhu. Ogni volta che parliamo di un gioco in una lezione di storia è perché quel gioco è stato per un motivo o per l'altro estremamente significativo all'interno del mondo del gioco di ruolo, ma apparentemente il richiamo di Cthulhu non sembra vantare nessun primato particolare, non è il gioco più giocato, né il gioco più diffuso, non è stato il primo gioco creato, né quello più morto, né ha creato dal nulla una ditta, la causa non si stava già prima e la causa non ha continuato ad esistere anni dopo, quindi non ha neanche causato il fallimento. Quindi perché proprio il richiamo di Cthulhu come soggetto di una lezione di storia? Perché in realtà il richiamo di Cthulhu un primato ce l'ha, no, non riguarda affatto il suo sistema o le sue regole, per quanto negli anni abbia avuto varie implementazioni e al momento in cui parlo dovremmo essere arrivati alla settima edizione delle regole, il richiamo Cthulhu continua a usare una versione solo leggermente modificata di quello che è il Basic Role Playing System, il sistema percentuale usato alla Causium, che è sicuramente un sistema estremamente influente, adottato da un sacco di giochi, ma anche lì di per sé non è stato nulla di rivoluzionario. Quello che rende speciale il richiamo di Cthulhu sta in un paio di pagine nella sua sezione del game master. Come moltissimi altri giochi il richiamo di Cthulhu nella sua sezione del game master ha una fondamentalmente piccola guida che spieghi al master come impostare una sessione, come impostare una campagna del gioco per rendere più gradevole a tutto il tavolo. E nel caso del richiamo di Cthulhu quella sezione era decisamente importante perché il base del gioco del richiamo di Cthulhu era abbastanza diversa da quello che era il gioco di ruolo nella sua forma dominante di quel periodo. Cthulhu infatti non è un gioco pensato per far vivere ai suoi giocatori generiche avventure in un mondo fantasy pieno di azione o western o quello che volete e non è neanche un sistema generico per permettere al master di ambientare qualsiasi tipo di avventura. Voglia ne avevamo già parlato quando avevamo parlato di GURPS. Ve lo lascio qui se dovete andarlo a recuperare. The Call of Cthulhu si basa su un paradigma totalmente diverso. Il gioco è dichiaratamente pensato per portare al tavolo un adattamento di quello che è il tema horror supernaturale e nello specifico proprio i racconti del ciclo di Cthulhu di Our Philip Lovecraft. Ora è abbastanza impossibile parlare del richiamo di Cthulhu senza parlare di Lovecraft e del ciclo di Cthulhu quindi permettetemi una breve digressione. Quando parliamo del ciclo di Cthulhu o dei miti di Cthulhu parliamo del corpo di opere letterarie scritte da Lovecraft e anche da una serie di autori contemporanei ma in realtà che è ripreso tutt'oggi in molte produzioni moderne. Se tra di voi ci sono degli amanti di Stephen King ci sono un sacco di riferimenti ai miti di Cthulhu nelle sue opere ma è possibile trovarne dovunque dai videogiochi ai film. I miti di Cthulhu sono un'opera fondante sia della fantascienza che dell'horror quindi è normale che abbiano influenzato moltissime opere di genere sia al momento della loro creazione sia tutt'oggi. L'universo dei miti di Cthulhu è un posto decisamente cupo dove la realtà in cui noi viviamo in realtà è solo una fragile apparenza perché in realtà l'universo è dominato dai grandi antichi, gli dèi esterni e tutta un'altra pletora di entità così smisuratamente enormi, potenti e inconcepibilmente antiche rispetto agli esseri umani che per noi risultano del tutto incomprensibili e per loro noi siamo meno di formiche. I pochi sfortunati che entrano in contatto con la conoscenza della vera natura e l'universo una volta concepita la propria insignificanza rispetto al vero stato delle cose e a quanto siano terribili i segreti che queste grandi entità nascondono non possono fare altro che perdere il senno normalmente poco prima di lasciare poche deliranti note o un diario in cui avvisano tutti gli altri di non procedere nella ricerca, di non cercare di scoprire cose nuove se non vogliono correre il rischio di fare la loro stessa fine. Anche se esistono gruppi di malvagi tribali e in possenso di conoscenze tramandate da eoni che venerano attivamente queste entità e in alcuni casi cercano anche di accelerare la fine del mondo, il risveglio degli dei antichi e quello che è. Come vi dicevo questo gioco è influente anche al punto di vista delle organizzazioni dei png. Come dicevo però il ciclo di Cthulhu è un'opera fondante di quello che è l'horror della fantascienza occidentale quindi non possiamo sicuramente approfondirlo in questi video in realtà vi ho fatto un riassunto estremamente scarno vi consiglio caldamente poi di se non l'avete già fatto andarvi a recuperare i libri anche solo per cultura generale c'è una serie di racconti più tre o quattro romanzi quindi non è neanche qualcosa di così al di fuori alle possibilità da recuperare. Se però avete veramente intenzione di farlo bisogna dare due disclaimer. Il primo è che Lovecraft l'autore principale ma anche la maggior parte dei suoi contemporanei sono persone nate nel 1890 quindi la maggior parte delle opere di Lovecraft è stata scritta tra il 1910 e il 1930. Molte delle idee politiche economiche e sociali che vengono espresse nei romanzi per la nostra sensibilità attuale potrebbero sembrare estremamente retrograde e probabilmente per molti letteralmente offensive. Il secondo è che Lovecraft dichiaratamente ateo favorevole alla ricerca scientifica espressamente anticapitalista per le persone della sua epoca veniva considerata una persona fin troppo progressista e questa tecnicamente è una cosa positiva ma dovrebbe darvi un'idea di quello che tra 150 anni la gente penserà di noi. Tornando al gioco che poi è quello che interessa a noi come si concretizza tutto questo? Il manuale nella sua sezione del Game Master spiegava proprio quali erano questi canoni letterari e suggeriva un modo per impostare le sessioni basato su quello che all'epoca era stato chiamato uno schema a cipolla e che noi contemporanei chiameremmo la meccanica del mystery box. All'inizio della campagna i personaggi giocanti veniva presentato un mistero relativamente di poco conto e relativamente normale. Un libro particolare era stato rubato alla biblioteca locale, un loro amico aveva cominciato a comportarsi in maniera strana, poi era misteriosamente scomparso, cose del genere. Risolvere quel mistero avrebbe però portato alla scoperta di un mistero ancora più grande. Il libro sarebbe stato ritrovato in una chiesa abbandonata insieme a materiale esoterico e quelli che sembrano i resti di un rituale satanico. Il loro amico quando lo ritrovano è stato rinchiuso in un manicomio perché oramai del tutto delirante e farfuglia di cose senza senso che però apparentemente lo terrorizzano. Indagare su questo secondo mistero porterà un terzo mistero poi un quarto e così via fino a quando nel finale della campagna i personaggi giocanti non dovranno confrontarsi con gli orrori cosmici che premono al di là dei confini della realtà e tutte quelle altre cose che i mortali non dovrebbero nemmeno immaginare. Cercare di metterci una pezza per salvare il mondo intero e probabilmente impazzire nel tentativo. Questo schema non è nulla di chissà cosa rivoluzionario anzi se avete già giocato a qualunque gioco investigativo o anche solo siete appassionati letteratura gialla o letteratura dell'orrore probabilmente lo avete già visto ripetersi un sacco di volte però vorrei attirare la vostra attenzione sulla parte in cui ho detto e probabilmente impazzire nel tentativo. Come moltissimi giochi dell'epoca classica del gioco di ruolo Call of Tulu ha una mortalità decisamente alta dei personaggi per quello a cui siamo abituati tutt'oggi ma a differenza di molti suoi contemporanei i giocatori non dovevano solo preoccuparsi della salute fisica del proprio personaggio il gioco introduceva una seconda barra dei punti ferita se vogliamo chiamarla così proprio il valore di sanità mentale che rappresentava in gioco quanto il personaggio era ancora in grado di connettere era ancora in controllo alle proprie capacità mentali. Se la sua salute mentale fosse deteriorata troppo se non avesse avuto più punti sanità il personaggio sarebbe impazzito e quindi sarebbe diventato un png sotto il controllo del master e funzionalmente il giocatore che lo giocava avrebbe perso il personaggio di conseguenza non era diverso da morire per aver subito troppi ferite durante un attacco. C'era però una notevole differenza con l'impostazione di molti altri giochi che andava a creare una relazione del tutto diversa tra giocatore e personaggio. In quella che avrebbe potuto essere una normale sessione di D&D di quel periodo quello che noi adesso chiameremo il periodo classico lo sì di D&D era effettivamente abbastanza facile e anche comune perdere il proprio personaggio in un combattimento anche solo per dei tiri di D&D sfortunati. Il fatto però è che lo scopo del gioco non era combattere i mostri era recuperare i tesori dai dungeon. I mostri hanno solo una delle difficoltà. L'esperienza ai personaggi tra l'altro veniva proprio data dalla quantità di tesoro che essi avevano recuperato non dai mostri che avevano sconfitto. Di conseguenza i giocatori stessi erano direttamente incoraggiati a evitare di combattere i mostri. Evitare il combattimento e arraffare il tesoro era la base del gioco. Se i giocatori non ce la facevano venivano puniti con il combattimento che metteva a rischio i suoi personaggi. Ma teoricamente un gruppo di giocatori estremamente competente avrebbe potuto finire la loro intera missione senza mai sguenare la spada e questo sarebbe stato considerato un ottimo modo di giocare. Ma in The Call of Thulu lo scopo del gioco è risolvere i misteri e risolvere i misteri richiede che i giocatori si espongano alle conoscenze che i mortali non dovrebbero conoscere e che quindi perdano la loro sanità mentale. Non c'è un modo per giocare al gioco come previsto senza mettere gravemente a rischio il proprio personaggio. Nel manuale stesso era specificato che dato che man mano che ci si avvicinava alla soluzione dei casi era sempre più probabile che i personaggi fossero impazziti anche se non fossero morti per combattimenti o quant'altro. Quindi consigliava ai giocatori tenersi sempre pronta almeno una seconda scheda con un altro personaggio a fare entrare in gioco nel momento molto probabile in cui il loro primo personaggio volenti o nolenti sarebbe impazzito in seguito alle indagini. Questo però portava proprio a un nuovo paradigma per quanto riguardava l'approccio che i singoli giocatori avevano con il loro personaggio. I giocatori non erano più incoraggiati a immedesimarsi nel loro personaggio per viverne le avventure proprio perché era improbabile che la campagna si sarebbe conclusa con gli stessi personaggi che l'avevano iniziata. Anzi ogni giocatore probabilmente avrebbe cambiato più di un personaggio nel corso della storia quindi se il personaggio non era più il fulcro del gioco era proprio la storia a diventare il punto focale che faceva da collante per tutte le azioni dei giocatori del master al tavolo. In una campagna di The Call of Tulu i giocatori giocano per risolvere il mistero e vedere come va a finire la storia. I personaggi sono semplicemente uno degli strumenti che utilizzano per portare avanti la narrazione. The Call of Tulu era infatti il primo gioco in cui veniva espressamente detto che il focus del gioco è proprio la narrazione collettiva non tanto le azioni del singolo personaggio e oltre questo era anche il primo gioco che faceva esplicitamente riferimento a un canone letterario partendo dal presupposto che la sessione di gioco avrebbe dovuto essere un tentativo di ricreare uno specifico canone letterario al tavolo nella forma di gioco di ruolo. Se oramai non fosse chiaro The Call of Tulu è il primo gioco scritto per essere esplicitamente giocato secondo i canoni di quella che anni dopo sarebbe stata definita come la cultura tradizionale del gioco di ruolo. Di per sé The Call of Tulu è il primo gioco di ruolo espressamente trad. Questo è solo uno degli innumerevoli esempi di come la maggior parte degli stili di gioco che noi adesso chiamiamo le varie scuole di pensiero, le culture del GDR o quello che volete, in realtà erano già tutti presenti fin dal periodo classico, semplicemente non avevano ancora avuto una codifica formale. Potenzialmente avrei potuto dedicare questo video anche ad altri giochi ma Call of Tulu è particolarmente significativo non solo per essere il primo gioco aver inavvertitamente codificato nero su bianco quello che poi sarebbe diventato lo stile di gioco dominante per tutto il periodo successivo ma anche perché è uno di quei pochi giochi che nonostante abbia avuto tantissime incarnazioni è cambiato veramente poco dalla sua edizione originale a quella attuale e il suo sistema e il modo in cui viene giocato oggi in realtà sono virtualmente identici a quelli che erano negli anni 80. L'attuale edizione continua a utilizzare il basic role playing system della Causium che è un sistema a sua volta particolare perché ha avuto poche variazioni ed è totalmente diverso da quello che all'epoca il suo concorrente Dungeons and Dragons quindi prima o poi dovrò farci un video ma diciamo che per questa settimana ho parlato fin troppo quindi questo video lo finiamo qui adesso come sempre la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi avete giocato avete masterato The Call of Tulu se vi è piaciuto se il fatto di morire in continuazione vi fa troppo arrabbiare e non ditemi che non siete mai impazziti tanto non vi credo con questo video chiudiamo anche l'ottava stagione del canale del Mastercai dalla settimana prossima durante la pausa di luglio vedrete una serie di video su tutto il retroscena che sta dietro l'edizione di quest'anno delle fazioni del Mega Dungeon il progetto collaborativo che ho fatto insieme alla community del canale in cui andremo a vedere per bene tutti i passaggi nella scrittura di un'ambientazione come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo per accrescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del survey discord del gruppo i telegram dove io metto le notifiche manualmente dove si raduna il resto della community al canale e come sempre io sono il Mastercai e noi ci vediamo nella prossima stagione